Il salvataggio del punto nascita è fondamentale per poter riprendere una programmazione per una valorizzazione del reparto stesso. Oggi i dati sembrano migliori rispetto a quelli presentati al Ministero nel 2018, ma serve una scelta politica forte perché venga sancita in maniera definitiva la salvaguardia del punto nascita e da qui ripartire per una piena valorizzazione. Il punto nascita c'è un dibattito molto acceso, abbiamo parlato anche con il sindaco, abbiamo parlato con gli operatori, c'è un documento del Ministero, è una tematica molto critica, molto particolare, che va analizzata e studiata sotto vari aspetti e anche l'incontro di oggi con il sindaco e gli operatori è finalizzato anche a questo aspetto. Questa è l'unica cosa certa, che attualmente abbiamo un atto ministeriale che ci dice che il punto nascita va chiuso perché non rispetta i parametri e ordina addirittura lo smantellamento del punto nascita con la ridefinizione appunto dei percorsi nascita. Dall'altro patto abbiamo invece un intento della Regione a seguito dell'accettazione di una risoluzione recentissima, però di fatto manca un atto dichiarativo del fatto che il punto nascita rimanga aperto e soprattutto un atto di programmazione. Non è che possiamo aspettare ancora troppo tempo per avere dalla Regione una programmazione, quindi ad oggi questo punto nascita non sappiamo giuridicamente se sia aperto o chiuso. Con il sindaco e tutti gli operatori ci siamo confrontati su alcune tematiche che riguardano l'ospedale, ma riguardano poi in generale tutta la sanità della provincia. Io ho chiesto il riavvio proprio di tutte le procedure per i concorsi, soprattutto per quanto riguarda i primari, e per riavviare tutte le attività ordinarie adesso depotenziate. Questo passa, secondo il direttore, attraverso l'approvazione della rete ospedaliera, rete ospedaliera che ferma da due anni e che oggi evidentemente è l'elemento che blocca una ripartenza del nostro ospedale. La Regione deve essere a questo punto intanto trasparente nel dire quello che prevede la nuova rete ospedaliera rispetto all'ospedale di Summona e da lì partire con i concorsi che sono già possibili perché le nostri reparti oggi senza una guida non possono riprendere un cammino di qualificazione piena e attrarre nuovi pazienti e nuove risorse.